Adesso posso togliermi qualche sassolino dalla scarpa. Inizia così la lettera sfogo pubblicata su Facebook da Luciano Cecchini, presidente uscente della Carnevalesca, che dopo i risultati delle elezioni del direttivo dell'Ente ha deciso di scrivere tutto ciò che teneva dentro da diverso tempo. Nonostante abbia ottenuto il maggior numero di voti, la scalata del comitato Pacassoni a Cecchini non va proprio giù. Durante l'assemblea di domenica, ha scritto, non è stato bello ricevere del buffone. È un buffone, chiede agli amici virtuali, uno che lascia il suo lavoro per dedicarsi gratuitamente per la sua passione e la sua città? È un buffone uno che lascia la sua famiglia, i suoi impegni personali e che addirittura si ritrova a litigare con la moglie per dare anima e corpo per la collettività? Non credo, sostiene Cecchini. E dopo aver ribadito che qualcuno ha fatto il doppio gioco, e cioè che si è schierato dalla sua parte solo di facciata ma poi ha votato contro, ha annunciato la sua decisione. Penso di lasciare, dopo 30 anni, la Carnevalesca, ha scritto, c'è un limite di sopportazione a tutto. E ancora, non posso rimanere in un consiglio di amministrazione dove Pierangeli, Ciavaglia, Gian Marioli non mi hanno mai sopportato e supportato da ex collaboratori. Penso di lasciare il posto al primo dei non eletti che era tanto nervoso, arrabbiato e agitato durante l'assemblea e qui si riferisce ad Antonio Fortuna della lista Gian Marioli. Adesso, ha concluso Cecchini, si prendano le loro responsabilità e facciano vedere come sarà il loro Carnevale. Io rimarrò sicuramente socio dell'ente Carnevalesca. Buon Carnevale a tutti e buon lavoro.